Il Museo Digitale ospita tutte le opere d'itinerario nell'arte. Entra nella Sala Proiezioni e usale per creare le tue lezioni. Per prima cosa accedi al museo con le tue credenziali mai zanichelli. Se non le hai, dovrai prima registrarti. Da qui puoi entrare nella Sala Proiezioni. Clicca su Scopri per cominciare a lavorare. Clicca su Crea analisi in fondo alla pagina. Dalla barra di ricerca, cerca l'immagine che vuoi analizzare e trascinala in questo riquadro. Poi, clicca su Modifica per aprire gli strumenti. Scegli il colore e la grandezza del tratto. Hai a disposizione linee, riquadri, cerchi, frecce, testo. Se vuoi mettere in risalto un dettaglio, usa questo pulsante. Con questo, invece, puoi selezionare e spostare gli oggetti. Puoi sempre tornare alla modifica precedente o eliminarle tutte. Quando hai finito, salva e dai un titolo alla tua analisi. La troverai sempre tra le tue analisi. E se vorrai, potrai sempre modificarla. Museo di itinerario nell'arte. Crea la tua lezione di storia dell'arte con analisi e confronti. Zanichelli. Idee per insegnare, idee per imparare.